Ciao amici Fonblog Italia, bentornati sul canale YouTube, oggi parliamo di smartwatch. Devo ringraziare Umidigi che mi ha dato la possibilità di portarvi a recensione il loro nuovissimo GPS Watch. Lui è Umidigi Urun. Ragazzi, un nome particolare, ma questo dispositivo ha tre interessanti funzioni non messe lì per far numero perché il sensore per l'ossigeno nel sangue, il GPS e il sensore per il battito cardiaco funzionano realmente bene, ma scopriamoli insieme dopo la sigla. Lo smartwatch arriverà con questa confezione, un nuovo stile di confezioni, quindi non più quel pacchettino quadrato, non so se vi ricordate gli smartwatch precedenti, confezione molto minimal, bianca, qualche email e codici QR qui sul lato. All'interno troveremo oltre ovviamente al nostro smartwatch, comprensivo di cinturino removibile, si può scegliere in tre colorazioni, smartwatch nero con cinturino nero, rose gold con cinturino rosa e come nel mio caso acciaio con cinturino bianco. Troveremo inoltre una manualistica con il codice QR per scaricare l'applicazione, compatibile con Android e iPhone. C'è anche la lingua italiana nelle istruzioni e troveremo il cavettino a pin magnetici per la ricarica del nostro dispositivo. Ecco il nostro Umidigi Urun in tutto il suo splendore, ma prima di descrivervelo nello specifico con le sue caratteristiche tecniche, volevo parlarvi delle tre cose che funzionano davvero in questo orologio. Intanto con il saturimetro, ossia lui ha un sensore separato da quello cardiaco per rilevare il nostro ossigeno nel sangue. Tanti smartwatch, anche quelli più economici, inseriscono ormai questa funzionalità, ma pochi davvero riescono a funzionare correttamente. Ho fatto la prova con un saturimetro da farmacia che ho in casa, un prodottino comunque che costa un'ottantina di euro, l'ho provato per tutta la settimana in contemporanea e devo dire che finalmente trovo uno smartwatch che ha, barra sportwatch, su questa fascia di prezzo, che ha il saturimetro che funziona, ossia l'ossigenazione nel sangue ha catturata dei dati, restituisce dei risultati, pari di poco sballano praticamente rispetto al saturimetro da farmacia, quello che io ho comprato appunto per i miei genitori nella farmacia ragazzi qui vicino e questo posso assicurarvelo come se l'avete visto nel video ragazzi che va davvero bene. La seconda funzione che mi è piaciuta su questo orologio è il battito cardiaco, in molti si sballa, in molti si hanno dei risultati altalenanti, in primis voglio dirvi che quando toglierete questo orologio dal polso lui si accorgerà che non lo state indossando e non farà rilevazioni fake, come tanti orologi rilevano anche magari la temperatura del battito cardiaco di un mouse su di un tappetino dove lui è appoggiato, fintissime. In questo caso lui si accorge che lo avete tolto e non catturerà rilevazioni, non farà rilevazioni finte. L'ho provato in contemporanea con il mio Apple Watch SE, quello del 2020 e i risultati sono pressoché identici, soltanto che lui costa meno di 50€, l'Apple Watch SE ne costa meno di 400€. Quindi è un altro punto a suo favore che davvero rende questo sensore molto affidabile. Terzo punto che mi è piaciuto tantissimo è che qui abbiamo il GPS integrato. Un GPS che fixa, aggancia il GPS tra i 30 secondi e i 60 secondi. L'ho testato in varie parti della mia città, in varie situazioni e mai oltre i 60 secondi per agganciare il GPS. Un GPS che ragazzi restituisce nella sua applicazione dei dati davvero precisi. Non ho trovato buchi di connessione neanche magari o delle mappe strane dove io attraversavo dentro qualche condominio. Ho trovato un GPS con un aggancio veloce e soprattutto stabile. Dopo avervi raccontato un pochettino le funzioni che mi sono piaciute, un po' una novità per uno smartwatch di Umidigi che lo rendono davvero appetibile, posso parlarvi ragazzi di cosa, di come è composto questo orologio, 43 grammi di peso comprensivo di cinturino. Abbiamo sul fronte un pannello da 1.1 pollici, un pannello più piccolo rispetto all'intera circonferenza del vetro. Ossia ragazzi c'è una sorta di cornicione nero qui al suo interno che rende lo schermo più piccolo, quindi il display è più piccolo, si può vedere qui dalle immagini, è più piccolo rispetto al, diciamo, alla reale circonferenza del display. Questa è una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, lo devo ammettere. Abbiamo un pannello TFT LCD, quindi non un IPS, ciò si traduce che sotto la luce diretta del sole, anche luminosità massima, lui ha 3 gradi di luminosità, devo dire che se proprio batte il sole, il raggio del sole, ragazzi, si farà un pochino di fatica, quindi bisognerà un pochino inclinare l'orologio, ma già all'interno, o quando magari non c'è il sole diretto, già luminosità 1 per l'interno e 2 per l'esterno, si riuscirà comunque a usufruire di tutti i nostri contenuti all'interno dell'orologio. È un orologio ovviamente Bluetooth, come detto prima, fornito di un ottimo GPS al suo interno, la cassa parte posteriore è in policarbonato, ci sono i quattro, i due pin con i due piccoli magneti per ricaricarlo, si ricarica in meno di due ore, e sono riuscito, vi dico la verità, la casa dichiara tra i 5 e i 10 giorni, ma sono riuscito intorno a una settimana, 5-6 giorni, a tenerlo sempre connesso con qualche sessione di GPS, quindi non sono riuscito effettivamente a raggiungere i 10 giorni di utilizzo, ma devo dire che l'ho usato, soprattutto in fase di test, davvero tantissimo. Il corning, tutta la parte laterale, compresi i due pulsanti, sono in acciaio 316L, il primo pulsante è quello un pochettino on off, ci fa entrare e uscire dai menu, il secondo bottone, quello in basso, è personalizzabile, si può personalizzare, come lanciare una determinata attività fisica o andare direttamente al pannellino delle notifiche, tutto configurabile tramite applicazione. È impermeabile 5 atmosfere, ma ragazzi non portatelo in acqua salata, acqua troppo calda, insomma, resisterà sicuramente se vi farete un bagno in piscina o se tranquillamente pioverà sopra, vi laverete le mani o Andrea, non andate a sciare. Come detto prima, lo smartwatch UmiDigi Urun è compatibile Android e iOS tramite una nuova applicazione, un'applicazione che ho messo davvero sotto torchio per capirne le varie funzionalità in questa settimana di prova. Un'applicazione che si comporta molto bene con iPhone, quindi con iOS, si riconnette automaticamente, arrivano le notifiche che ci possiamo sceglierle appunto dall'applicazione. È possibile associare all'app Salute i dati catturati da questo orologio, ma è possibile farlo anche con Android, connettono magari con Google Fit o con Strava, ma quello che ho notato in Android ve lo devo dire è che quando usciamo dal range, rientriamo nel range, non si riconnetta automaticamente, quindi bisogna riaprire l'applicazione, rifare un clic, o certe volte basta riaprire l'applicazione e si riconnetta automaticamente con iOS, con il mio iPhone, ne ho provati su due iPhone differenti, questo non succede, si riconnette sempre automaticamente, ogni tanto qualche piccola disconnessione involontaria su iOS, ma ho visto che immediatamente lui si riconnetteva. Abbiamo un range intorno ai 5-6 metri senza muri al centro, quindi devo dire non girerete per tutta la casa con questo orologio, ma basterà con iPhone tornare nel range, automaticamente lui si riconnetterà. Il menu è molto semplice, si abbassa la tendina, si va al pannello dei toggle, dove vi è un'iconcina molto bella, quella che ci permetterà di tenere il display acceso fino a una determinata quantità di tempo, ragazzi, da noi, che si può tranquillamente scegliere. Ovviamente si può spegnere il pannello entro i 30 secondi, con il classico, diciamo, movimentino, e si può tenere appunto lo screen on dai 5 minuti fino ai 30 minuti sempre acceso. Quindi se magari andate a camminare o avete bisogno dell'orologio quindi sempre acceso, senza dover fare il movimento di rotazione, con questa funzione, ragazzi, finalmente si può fare via il non disturbare, la possibilità di inserire sveglie, ci sono 4 watch faces, che devo dire me ne sono piaciute un paio, un paio, diciamo, non le ho gradite tantissimo e ho notato che dall'applicazione non vi è alcuna possibilità di aggiungere nuove watch faces, ma questo non esclude un upgrade futuro dell'applicazione. Si può decidere appunto il tasto qui, questo posteriore, per dargli una determinata funzione, come detto prima, è possibile tranquillamente scegliere la vibrazione su due livelli di intensità, o anche poterla disattivare, come disattivare il movimento per la rotazione. Abbiamo, andando dal basso verso l'alto, si accedono alle notifiche, è possibile ricevere, ragazzi, le nostre notifiche, non è possibile rispondere alle notifiche, vedere fotografie, sentire, insomma, vocali, perché qui non c'è memoria interna, non si può espandere la memoria, neanche inserire sim, ma si possono ricevere telefonate, solo vedere, insomma, ci dirà che ci sta chiamando, non sono riuscito a far apparire il nome del chiamante, né su Android, né su iOS. Quindi, quando ci chiameranno, comunque lui vibrerà e si potrà anche rifiutare la chiamata. Quindi una gestione, diciamo, alquanto basilare, perché lui è uno smartwatch che si focalizza un pochettino appunto sulle tre funzioni, ossia un battito cardiaco, GPS e ossigeno nel sangue. Misura comunque i passi, misura le calorie bruciate, le ho trovate, diciamo, un po' sottostimate rispetto al mio Apple Watch e se è comunque, diciamo, sul buon, sul livello medio. Niente di preoccupante, ragazzi, non è la solita ciò fregata che prendiamo su Amazon. Misura anche il sonno, anche qui, devo dire, decisamente preciso, non mi sono potuto lamentare. Dopo il menu è a scorrimento, ci sono un pochettino di funzioncine, come il medio, lo scatto, il remoto. Invece, se andiamo a premere il pulsante superiore, ragazzi, ci sono altre funzioncine, come la possibilità di lanciare gli esercizi, andare a vedere il record degli esercizi, poter misurare, oltre al cuore, l'ossigione e il sangue, anche, diciamo, la pressione, ragazzi, il BP, come lo vogliamo chiamare, quindi la minima, la massima, la sistolica, la diastolica, insomma. Si può andare a gestire la musica in remoto, con Spotify funziona perfettamente, una sorta di torcia elettrica, fotografie in remoto dal nostro smartphone, dopo vi è il conteggio alla rovescia, come lo chiama lui, ossia il timer, vi è il cronometro e vi è anche la bussola, una bussola che, devo dire, anche questa, misurata parallelamente ad iPhone, devo dire che è molto precisa. Amici di PhoneBlog Italia, siamo giunti alle conclusioni di questo smartwatch barra sportwatch o barra saturimetro da polso. Lo promuovo? Si, lo promuovo nel caso vi occorre un orologio che non costa molto, che vi offre un buon GPS e soprattutto in questi brutti periodi vi offre anche un buon saturimetro preciso, provato con uno comprato in farmacia, non il classico saturimetro da 15€, quello che io ho anche il sensore di perfunzione, credo si chiami proprio così. Quindi è abbastanza, ragazzi, preciso. Preciso nel cuore e nel sonno come un Apple Watch S2020, i passi, devo dire, siamo sopra la media delle classiche smartwatch sportband economiche. Per il resto, ragazzi, lui ha sì le sue pecche, ha il problema della disconnessione su Android, quindi funziona bene, non è che non funziona, ma capita che non si riconnetta automaticamente quando rientriamo nel range. Questo non succede con iPhone, ma secondo me è più un problema di questa nuova applicazione che sarà comunque fixata, penso. Il software del dispositivo aggiorna, ho già aggiornato una volta, è un problema di molto fluido, anche la parte touch, mi dispiace solo per la qualità di questo display che forse è un pochettino più piccolo, magari l'avrei preferito a schermo intero. Arrivano, come vedete, anche adesso tutte le mie notifiche, ragazzi, quindi io posso consigliarvelo, anche perché poi ha i cinturini intercambiabili, quindi vi divertite, magari vi sbizzarrite a mettere i cinturini che avete a casa, ha una buona batteria e costa, diciamo, sotto i 50€. Spesso va in offerta direttamente sullo store di Amazon Italia da Umidigi. Io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video. Vi ricordo di seguirmi su tutte le mie pagine e profili social. Ragazzi, stanno arrivando interessantissime novità. Mi raccomando, like e iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video e come sempre tech.offerta per tante offerte su Telegram e codici sconto quotidiani. Ciao!